Clement Legaer, specialista in filosofia scandinava e tedesca, professore di liceo ad Arras, dico bene? Perché Arras, Antoine? Arras? Non è un caso, è una punizione. Un'ora e mezza da Parigi. Io sono parigino, Antoine, parigino. E io sono di Arras. E ne sono fiera. Prima di fare la parrucchiera, volevo fare la parrucchiera. È formidabile, sa? Cambiare il volto delle persone può cambiare la loro vita. Le andrebbe di andare al cinema? Sono sicura che non abbiamo gli stessi gusti per niente. A lui interessa non la storia che racconta, ma quello che racconta la sua storia. Solo Zola potrebbe spiegarci cosa ha veramente voluto dire, signor professore. La luna, che ha il capriccio stesso, guardò dalla finestra mentre dormivi nella tua culla e si disse Questa bambina mi piace. Lasciati andare, gazzone! Lasciati andare! Come ti spieghi che un uomo che sa tante cose non sa niente sui sentimenti? Perché dubito di quello che sento, di quello che so dell'amore, di quello che credo di sapere. Ecco, il signor so tutto diventa il signor non lo so. Ma che ti prende? Perché dici così? Ci rivedremo. Può darsi... O può darsi di no, si può veramente sapere.